Telle Marina è una ragazza nata e cresciuta a Stromboli, ha solo frequentato questi posti, questo mare, queste spiagge, non si è mai mossa da qui insomma, per cui ha un senso della vita molto semplice, molto genuino, il modo di rapportarsi con le altre persone è molto libero, naturale. Conosce Davide da quando era piccolissima, l'ha sempre visto lontano magari, con le sue donne che una volta ci litica, una volta la bacia, una volta ci litica, una volta la bacia, dice com'è? Che strana la vita! A differenza di anni lo rincontra sul traghetto e non so, tra loro due comincia diciamo, non è un flare, non è nulla del genere, soltanto due persone che si capiscono. Per me questo film è come una favola, come in tutte le favole che insomma che si rispettino, c'è un aiutante del protagonista che in questo caso sarebbe Stella Marina, che anche se involontariamente riesce in qualche modo a far recuperare al protagonista tutti i rapporti che lui ha avuto nella sua vita con le sue donne, a partire dalla madre, alla alla sua ex, alla sua ex ex e riesce a far arrivare alla favola la sua conclusione.